Ma adesso che te l'ho fatta, n'ha affanculo, ah. Tento a non ingozzarti a papà. Gatti, te l'ho. Ma sono buoni! Era un botto che non prendevo schifezze. Ah, ragazzi, mi stavo appoggiando un attimo. No, con... Non ho visto. Bubba, coca, perfetto. Grazie, Victor. Grazie per l'età. Victor ci sta sotto, m'ho visto, per Attack on Titan. Cioè, se stavamo sapere... Sì, ma credo, perché comunque lo sta... Opinione sur Simone Inzaghi nazionale. Quella è la V di Victor, ragazzi. Sta facendo la... È il logo di Vic. Vero, Vic, è il nuovo logo. Te prego, ditte sì. Comunque è fighissimo il cuca, eh. Ma chi cazzo è vomito? Scuringia, pa... Bene, Enrico, vabbè, ma non c'hai i soldi, ragazzi, Enrico. Non investe, non investe. Hanno paura a investire. La banni poso. Grazie, Nervolo. Ma sono interessato di un messaggio di Tomo Ico. Ascoltiamolo. La Fiorentina ha comprato vomito scurengia palle. Va bene. Sicuramente, Tomoko. Queste squadre riescono sempre a trovare degli investitori. Non si sa dove. E continuano ad andare avanti a vincere coppe e scudetti. Mentre le altre squadre di merda, tipo la Lazio, la Roma, l'Atalanta, la Fiorentina, non fanno mai un cazzo. Bah, è il blasone. Ma perché cazzo non riescono a uscire fuori le altre? Ma lo so che andrò contro tanti tifosi della Juventus, che sono un botto, del Milan, dell'Inter. Ma porca puttana. Non puzza di cazzo, comunque, tranquillo. Non c'è nessuno strapon. Perché vendono giocatori forti, bella, Nanni. Ma... Bu, io non ce la faccio più. Vabbè, tu sei dell'Inter, Nanni, quindi... E poi se ve la prendete tantissimo non faccio questi discorsi. Ma... Ma di brutto ve la prendete. Ma io non voglio criticare voi. Io ce l'ho col sistema calcio italiano che è fatto male. Lo titolo... Lasciamo perdere, vabbè. La prima cosa è stata da...